Una buona serata a tutti da Marco. Mentre una circolazione depressionaria lentamente si sposta verso il sud dell'Italia, un'altra è in arrivo dalla penisola iberica. Domani raggiungerà con il suo minimo la Francia meridionale, favorendo maltempo anche nei settori del centro nord lato tirrenico. Al contrario le regioni del centro sud vivranno una giornata di pausa, sebbene rimarrà una copertura del cielo estese persistente ma con pochi fenomeni. In Abruzzo le precipitazioni in atto proseguiranno fino a notte ma per domani avremo solo estesa nuvolosità, in particolare su Terramano, Pescarese e Chietino, qualche spiraglio di sole in più nei settori occidentali. La ventilazione sarà sempre debole di direzione variabile ed il mare da mosso diverrà poco mosso. Le temperature sono previste stazionarie con le minime di questa notte comprese tra 6 e 11 gradi e le massime di domani tra 9 e 12 gradi. Per il meteo è tutto, buon proseguimento di serata.